Musica Piano nazionale degli aeroporti, il ministro Lupi chiede il parere alle regioni entro il 15 febbraio. Il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Maurizio Lupi, ha chiesto alle regioni di accelerare il parere sul piano nazionale degli aeroporti per chiudere l'iter di approvazione entro il 15 febbraio prossimo, date intorno alla quale dovrebbe essere programmata la prossima conferenza Stato-Regioni. E quanto emerso nell'incontro politico che ieri mattina ha visto impegnati a Roma gli assessori dei trasporti per la regione Puglia, che rappresenta l'assessore Leo Di Gioia, nel corso del vertice sono emerse richieste, integrazioni e modifiche in attesa del parere definitivo. Il piano chiede forma caratterizzandosi per una certa flessibilità in entrata a dimostrarlo e la presenza all'interno della bozza del decreto del comma che prevede la possibilità agli aeroporti di Foggia e Forlì di essere reintegrati nel piano, dimostrando entro un anno di avere requisiti legati alla continuità territoriale, alla tipicità dello scalo e all'equilibrio economico. Nel frattempo sono state fissate alcune riunioni, una politica e una tecnica, quest'ultima in particolare servirà per mettere a punto gli aspetti legati alle finestre di tempo entro cui gli scali saranno tenuti per dimostrare di possedere i requisiti per essere reintegrati o rimanere nel piano nazionale degli aeroporti. Continua la protesta dei consiglieri provinciali del centrodestra, i quali nell'ultimo consiglio hanno abbandonato l'aula per contestare le decisioni del presidente Francesco Miglio circa l'attribuzione delle deleghe. Massimo Venditti, quota NCD, si sente preso in giro e attacca. Punto primo è perché non abbiamo avuto proprio il tempo tecnico, il tempo materiale per esaminare tutti gli accapi dell'ordine del giorno. Io penso che è finito il tempo dove si va in consiglio provinciale solo ad alzare la mano, visto che si doveva approvare il debito fuori bilancio. Quindi visto che Miglio ha deciso di dare le deleghe solo alla maggioranza, allora toccherà a loro onori e onori. Anche perché Miglio fino all'ultimo minuto aveva promesso a noi della minoranza, visto che ne siamo solo 12 consiglieri, aveva promesso a tutti una delica. Ma questo non è avvenuto perché evidentemente Miglio viene tirato dalla giacca dai componenti del PD. L'abbiamo visto anche in questa settimana per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti della provincia. Quindi ha fatto più volte retrofronte. Evidentemente non è in grado di decidere da solo. La nuova mappa geografica del Consiglio provinciale vede esclusa l'area dei Monti Dauni, già pesantemente penalizzata da tanti problemi. Comunque io rappresento i Monti Dauni perché i sindaci, tutti quanti, insieme ai consiglieri, mi hanno sostenuto in campagna elettorale. Oggi posso dare poche risposte al territorio perché già chi è con le deleghe non è che si può fare tanto perché non c'è potere di firma. Ma almeno ci provavo, così mi tocca fare appunto l'opposizione. Sequestro di reperti archeologici. I carabinieri hanno sequestrato 5361 reperti archeologici. Molti di questi provengono dalla Capitanata. Il sindaco di Manfredonia scrive al ministro Franceschini e chiede di riportare a Manfredonia quelli che provengono dal nostro territorio. Il più grande ritrovamento di reperti archeologici di sempre, ha detto il ministro Franceschini nella conferenza stampa nella quale ha raccontato del recupero di più di 5.000 pezzi. Una notizia tale che non passa inosservata anche a Palazzo San Domenico. Fatta il sindaco immediatamente stabilito contatti con il ministro dei beni culturali perché ha il convincimento che molti di questi vasi e anfore possono provenire anche da Manfredonia. La vicenda è iniziata ormai dal 2001 quando Gianfranco Becchina, colui al quale è stato sequestrato un ingente Bottino, fu fermato all'aeroporto di Inate. Partì un arrogatore internazionale essendo interessati nel negozio di 5 magazzini. E ora finalmente i reperti archeologici sequestrati sono stati mostrati al terme di Diocleziano. E come dice il ministro Franceschini si è avuto l'intenzione di riportare nei loro luoghi di origine. E quindi le regioni del centro-sud Italia potranno anche farne richiesta, quali Lazio, Basilicata, Puglia e Sardegna. Il valore dei beni archeologici consente di ricostruire l'identità cittadina e di restituire le proprie radici. Un proposito che rientra in un panorama più ampio finalizzato alla rinascita della cultura. Progetto Casa del Mare, impegno di spese di 140.000 euro. Con determina dirigenziale impegnata la somma di 140.000 euro per il progetto denominato Casa del Mare. Di cui quasi 100.000 euro di contributo pubblico e 40.000 euro di cofinanziamento. La regione Puglia aveva inserito il progetto denominato Casa del Mare al numero 1 della graduatoria della missione al finanziamento. Con la precisione che la somma totale del progetto ammessa e finanziato è pari a 140.000 euro. Fallimento del mercato ittico conferenza stampa. Giovedì 29 gennaio 2015, alle ore 12 presso l'aula consigliare del comune di Manfredonia, conferenza stampa sul fallimento del consorso gestione mercato ittico di Manfredonia. Interverranno il sindaco Riccardi e l'assessore Angelillis. E parliamo di sport Manfredonia Calcio. Domani Manfredonia Biceglie. Domani ventesima giornata del campionato di serie di Girone H. Al Miramare arriverà il Biceglie con inizio della gara alle ore 16. L'albitro della gara sarà il signor Samuele Bruni di fermo.